e quindi andiamo a vedere anche il show 1 vs futtano 2 perchè ovviamente di lui è riuscito a vendere prima la fine su stile bene e quindi è nato quindi quale sarebbe usato a me qualche dettaglio eccezionale anche le musiche anche le musiche quindi queste qui sono tutte un copyright io non lo so io faccio un rambo di musica o faccio un film qua perchè questa è già nato un copyright e non ce le devo abbassare come questa cosa la copyright non scappa su qui e non può magari uno anche che è molto piccolo entusiasta che ormai ci sono più questi programmi potrebbero arrivare a livelli quasi così c'è una produzione televisione cioè a livello di televisione con un telefonino con un telefonino puoi fare un programma quasi televisivo e poi però c'è tutta questa cosa il copyright il copyright non si capisce niente anche qua stanno usando i personaggi del film e quelli che speriamo di copyright non si capisce niente non si capisce anche con questa intelligenza artificiale e comunque questo era un bel video io ho fatto un bel video io ho fatto un bel video io ho fatto un bel video e poi il canale ci stiamo ciao